ciao a tutti oggi prepariamo un secondo velocissimo ma che più veloce non si può e soprattutto farete un figurone e logicamente è sempre dietetico cucineremo il petto d'anatra all'arancia ma fatto nel microonde in vaso cottura vi do gli ingredienti innanzitutto ci vorrà un bel barattolo per la vaso cottura io utilizzo poi 200 grammi di petto d'anatra ci vorranno uno due arance dipende se le avete grandi o piccole un paio di spicchi d'aglio un pezzettino di rosmarino una foglia di alloro e come spezie abbiamo un quarto di cucchiaino di brodo granulare di verdura sempre un quarto di cucchiaino di cipolla in polvere e uguale anche dell'aglio in polvere poi se vi piace qualche bacca di pepe nero e infine ma non per ultimo lui il nostro ingrediente segreto chiederà veramente un gusto particolare alla nostra anatra al lavoro spremiamo le arance e peliamo l'aglio cominciamo con l'inserire nel nostro barattolo il petto d'anatra lasciandolo con la pelle però all'esterno aggiungiamo le erbe l'alloro il rosmarino il pepe in grani e tutte le nostre spezie aggiungiamo anche lui il nostro ingrediente segreto gli spicchi d'aglio e infine il succo d'arancia chiudiamo bene il nostro barattolo e copriamo il tutto con uno straccio umido per evitare che le parti metalliche nel microonde preno un arcovoltaico vi ricordo intanto se vi va di iscrivervi al mio canale così ogni settimana riceverete la ricetta in anteprima e vi ricordo soprattutto che l'elenco completo degli ingredienti lo trovate qui sotto nella descrizione e vai pronto da mettere nel microonde 5 o 6 minuti non di più a 700 watt ecco l'impiattata la nostra bella anatra saporitissima tenerissima come non l'avrete mai mangiata provatele fatemi sapere vi svelerò l'ingrediente segreto sono due bacche di ginepro che daranno veramente un gusto molto speciale alla nostra anatra e mi raccomando condividete il video con chi vuole perdere peso senza fare troppa fatica ciao alla prossima ricetta